la nuova track top fuel 9.8 xd per fortuna perché sennò i freni erano eccessi della ram gen 4 2025 già provata coltellino svizzero quando esci dalle curve o dai drop o dai falsi piani o dai single track mollo i freni è precisa e una scheggia vediamo sulle cime alte come si comporta e di solito usiamo per enduro nelle bilancie è una scelta la cia c'è una motorizzata un po' Oh Sì 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 Alla Sì 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 That's la pista non può stagliare, veramente sta adesso proviamo un drop, un po' esagerato, vediamo come si comporta hop, bene, andiamo a finire cosa va, va di una precisione questa la facciamo per il vingone, altre velocità, ma questo è un gioiellino grazie a Patrick, al bike, è un instrumento mi ha corretto il vento qua, non mi ha trovato la stanza molto stavato, mi ha portato ieri bene è spessatissimo e se in lucido, mi attuassi il vento, che cazzo ti pare e resta grazie a Patrick grazie a Patrick grazie a tutti